Prevenire le infiltrazioni mafiose nel mondo degli appalti pubblici anche nell'ambito dei beni culturali a potenza la firma di un protocollo tra istituzioni. Ce ne parla Francesco Bonaduce. L'esigenza è salvaguardare la realizzazione delle opere d'arte e altri servizi di pubblico interesse da fenomeni come corruzione e tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. Un obiettivo da raggiungere attraverso l'estensione delle cautele solitamente utilizzate nella disciplina antimafia e cioè sistematiche procedure di verifica e controllo nelle diverse fasi dei lavori pubblici e appalti al mondo dei beni culturali. A potenza è stato siglato un protocollo che prevede tra gli altri punti come l'inserimento nei bandi di clausole relative all'iscrizione nella white list degli operatori economici, l'attivazione di banche dati delle imprese aggiudicatarie per rendere più agevole e costante il monitoraggio, menzionato poi il controllo sul rispetto degli obblighi retributivi e contributivi da parte delle aziende in appalto e subappalto e dei loro flussi finanziari per prevenire riciclaggio e corruzione. L'intesa è stata sottoscritta dalla segretaria regionale per la Basilicata del Ministero della Cultura, Luigi Natomai, e dal prefetto di Potenza, Michele Campanaro. Quest'ultimo ha dichiarato che non sarà fatto nessuno sconto all'infiltrazione della criminalità e ai fenomeni corruttivi nell'economia legale della regione. Nell'occasione è sottoscritto anche un accordo che stanzia oltre 800 mila euro per interventi di manutenzione straordinaria nella chiesa di Santa Maria del Gesù Avigiano.